Ciao a tutti e benvenuti su scienzafacile.it, io sono Stefano. Oggi raccontiamo una storia, potrebbe cominciare così. C'era una volta al mare, o forse una volta c'era al mare. Una frase un po' difficile da spiegare, soprattutto mi è venuta l'idea di questo titolo perché qualche giorno fa ero alla mostra dei fossili della Grigna, a tenere un laboratorio didattico, a fare visite guidate per i turisti, ero in Balsassina, e in Balsassina, ad esempio, c'è la Grigna settentrionale, un posto dove ho lavorato, dove sono stati trovati tantissimi fossili, tantissimi fossili di origine marina. Soprattutto noi abbiamo trovato pesci, anche qualche invertebrato, pesci fossili. E' abbastanza scontata la conclusione, allora qui una volta c'era al mare. Al che, sto con un po' il mudo, non è proprio andata così. Quella lì è un po' una favoletta. Le cose sono andate un po' diversamente. Per raccontare questa storia cominciamo a vedere dove è la Grigna settentrionale oggi, dove sono le Prealti, potremmo dire. La Grigna settentrionale è la montagna che si trova in Balsassina, ma è la provincia di Lecco, è proprio nelle Prealti. Prealti che si trovano in Italia, fatta una piccola rappresentazione del globo terrestre, in cui c'è anche la nostra Italia. Non c'è proprio tutto, comunque c'è la nostra Italia. Dove si trova oggi? Oggi l'Italia è qua. Le Prealti sono più o meno qui. Qua, una bella X, un bel cerchiettino. Qui ci sono le Prealti oggi. Lì ci sono quelle rocce che si erano formate in mare, dove troviamo organismi marini, invertebrati, invertebrati marini. Abbiamo trovato pesci, sono stati trovati reti lì anche, conchiglie, gusci. Ma si sono formate lì le rocce della pigna? In realtà no. Solo un piccolo appunto. Questo disegno l'ho copiato, l'ho copiato da un sito. Questo sito. Qui potete trovare periodo per periodo la localizzazione dei continenti. Come si sono spostati? I continenti si sono spostati, o meglio, si spostano. Si spostano da sempre, da quando ci sono. Si spostano anche adesso, anche se non ce ne accorgiamo. Comunque si spostano. Nel loro spostamento era anche misurabile, attualmente. Vorrei farvi vedere dove si trovavano i continenti, dove si trovavano le terre emerse, nel periodo Triassico. Andate semmai a guardarvi la scala dei tempi geologici, a quando risale questo periodo. Comunque siamo a circa 250 milioni di anni fa. Le grigne in realtà sono un po' più recenti. Circa 240 milioni di anni. Ma vediamo subito come erano le terre emerse a quel tempo. Eccoci qua. In questo caso, non siamo più a oggi, ma siamo nel Triassico. Sempre dal sito www.formalworlds.com Nel Triassico le terre emerse erano in posti completamente diversi. Verrebbe da dire, è vero che c'era il mare una volta. Sì. Ma questo esula un po' da quello che abbiamo pensato. Uno pensa, ci sono i pesci, ci sono le conchiglie, si sono formati in mare, vuol dire che lì c'era il mare, che poi è diventato montagna. In effetti, i fondali marini sono stati sollevati, sono stati sollevati per delle collisioni tra placche, per delle collisioni tra terre emerse, che hanno sollevato un po' quello che stava in mezzo, l'hanno compresso, l'hanno sollevato, l'hanno anche rotto, piegato, fagliato, insomma mescolato in qualche modo. Sì, però, quelle rocce si sono formate in mari tropicali, innanzitutto. E soprattutto non erano qua sotto. Ma si trovavano, guarda un po', qui, si trovavano lì mari tropicali, mari caldi. Questo EQ sta per Equatore. Qui c'era l'Equatore, c'erano mari caldi, dove si sono depositati i calcari che formano le tre Alpi. sta di fatto che quindi là una volta c'era il mare, non lì sulle grigne, ma molto più a sud, diversi chilometri più a sud, e non dieci chilometri, neanche cento. Si tratta di poche migliaia di chilometri. Quindi, sì, sono stati sollevati, come dalle marini, ma hanno anche migrato, hanno anche migrato per tantissima strada, per tantissima strada. Tutta la storia della Terra, degli spostamenti continentali, è una storia complessa. Comunque, su questo sito, ricordatevelo, andate a dargli un'occhiata, www.formalworlds.com Potete trovare, periodo per periodo, poi cliccate sul nome di un periodo, e trovate dove erano localizzati i continenti nel periodo in cui cliccate. Una cosa molto interessante, e una cosa anche molto divertente. Con il link anche alla grigna settentrionale, dove si trovava un po' qualcosa che corrisponde quasi a tutte le pre-alpi, più o meno dove si trovavano. Cento chilometri più, cento chilometri meno. Io vi ringrazio, spero questo breve post vi ha fatto rendere conto che le terre emerse si possono alzare, abbassare, ma si muovono, si muovono in continuazione. Non è mia questa frase, è di parecchie centinaia di anni fa. Tutto ciò che osserviamo è frutto di cambiamenti che avvengono ogni istante, anche adesso, mentre io chiacchiero e mentre voi guardate www.scienzafacile.it Grazie a tutti, da Stefano, ciao, buona giornata. Grazie a tutti.